Arte 24 Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula Primo Pantoli è un artista che ormai stava vent'anni in Sardegna è stato protagonista di una serie di iniziative molto importanti e a volte anche frustranti una delle cose che ha contribuito a far venire su è stato Studio 58 una delle prime cose mi pare, vero? Sì, la prima esattamente Poi da questo è venuto fuori il gruppo di iniziativa poi il centro di cultura democratica cioè tante cose a cosa sono servite Primo? Io credo che siano servite a molto, almeno in quei tempi non dimenticare che eravamo nei tempi in cui si esponevano soltanto dei paesaggi al tramonto barchette che riflettevano i colorini nell'acqua o uomini vecchi con barba e berritta e questa era tutta l'arte che si produceva nell'isola a proposito di quella famosa artista l'arte di cui parlavi prima Noi se non altro siamo stati gli iniziatori di un discorso nuovo mi pare, estremamente libero perché proprio a Studio 58 c'era come base comune un'estrema libertà di espressione, di linguaggio, di contenuti e inoltre c'era anche una questione importante di organizzazione che mi sembra che sia stata la prima volta all'ora in cui gli artisti si sono dati un'organizzazione autonoma cioè non ci siamo più fatti condizionare dalle due uniche gallerie ufficiali che allora c'erano perché allora nel 58 a Cagliari c'erano soltanto due gallerie ufficiali noi ci siamo organizzati per conto nostro abbiamo incominciato a disporre nel retro bottega di un negozio così una salezza proprio minima 13-14 persone lì che urlando, litigando però lavorando molto insomma sono riusciti a creare la prima spinta insomma per muovere qualcosa indubbiamente ecco ti sembra che oggi si possano vedere in qualche modo i frutti di questo tipo di operazioni? ma anche se qualcuno dice di no mi sembra che qualcosa abbia prodotto intanto dopo questo è nato il gruppo d'iniziativa che era già un passo in avanti mi sembra perché c'era già un impegno sociale e politico che nello studio 58 non c'era sicché noi stessi attraverso questa collaborazione attraverso questo lavoro di gruppo in fondo questo studio collettivo abbiamo acquisito una nuova coscienza che prima indubbiamente non avevamo perlomeno non avevamo guagliato ti riferisci alla coscienza politica? tale questione sociale ecco forse non è male un po' fare un riesame delle cose che si facevano allora dello spirito anche per vedere per verificare fino a che punto ancora oggi una impostazione come quella del gruppo d'iniziativa possono ritenersi valide a me sembra di sì sembra di rivederle in tante opere che oggi si chiamano l'avanguardia certo ma ti dirò anche di più che noi siamo stati all'avanguardia in quel periodo soltanto che la nostra disgrazia era di essere in un'isola e non essere a Milano o a Roma insomma nel centro in cui avremmo potuto produrre non solo produrre di più a livello individuale ma avere anche un eco a livello nazionale molto più valida molto più diffusa la nostra idea sarebbe stata come in fondo stavo dicendo che eravamo all'avanguardia perché certe nostre idee che abbiamo certi problemi che abbiamo affrontato sul rapporto arte-politica arte-società nel gruppo d'iniziativa sono venuti poi a galla dopo molto più tardi cioè con i movimenti del 68 del 70 eccetera esatto è questo che volevo dire io ho qui davanti delle cose che sono probabilmente posteriori a questo periodo ma le radici sono evidentemente quelle immagini per esempio dove vengono dipinte delle parole forse non è la stessa cosa che fanno per esempio i minimal quelli che espongono no questa è un'altra funzione è un'altra funzione ecco vediamo un po' di discutere questa funzione da che cosa nasceva questa esigenza di scrivere a chiare lettere diciamo in maniera inequivocabile la posizione politica degli autori beh siamo partiti da questo a un certo punto ci siamo accorti che il linguaggio proprio visivo manteneva un'ambiguità malgrado tutti gli sforzi che si potevano fare per affrontare direttamente un discorso e per fare dei discorsi precisi e cioè era leggibile in tanti modi diversi ci siamo accorti di questo quando ci siamo accorti di questo ci siamo posti anche il problema come rendere univoco il discorso cioè come far capire alla gente da che parte andava a letto e come andava a letto il quadro per essere proprio chiari ecco questo naturalmente significava una univocità di impostazione e che perlomeno il desiderio che la gente leggesse il quadro nella maniera in cui l'autore voleva ecco come impostazione generale politica di scelta di classe diciamo così ecco poi rimaneva naturalmente e non poteva non rimanere credo l'ambiguità dell'operazione artistica come tale cioè l'utilizzazione di immagini segni eccetera che rimandassero continuamente a situazioni non esattamente univoche come quelle che venivano dettate dalla premessa diciamo di impostazione politica c'era questa unità no? questo questa dialettica diciamo fra i due linguaggi quello scritto che era più univoco meno ambiguo e quello visivo che poteva andare incontro a fondo a tutta quella tutta quella fascia in fondo di ambiguità che resta sempre in ogni problema tutta quella fascia di libertà individuale di fantasia di moti più o meno emotivi sentimentali cioè dei diversi livelli in cui tutte quelle componenti che sono presenti ogni volta che si fa pittura cioè un problema dicono si può affrontare da diversi punti di vista e a diversi livelli anche un problema politico certo cioè è chiaro che non bastava scrivere su un quadro viva la rivoluzione viva il movimento operario che so io senza mettere da pittori poi tutto quella senza affrontare da pittori tutta quella fascia di emozioni di elementi proprio emozionali che potevano fare da contorno anzi da supporto a questa frase se vogliamo anche tutto quel contorno di elementi linguistici che sono poi il supporto attraverso il quale tu trasmette il messaggio ricordo per esempio che tu avevi dei problemi diciamo così di tipo estetico ti dava fastidio che i tuoi quadri in qualche modo apparissero così compiaciuti belli ecco e allora operavi una sorta di distruzione di ciò che facevi proprio per dire io non mi ci sto avaggiando non mi sto compiacendo e non mi sto contemplando sono un uomo che ha dei problemi e questi problemi vengono fuori quando metto in forza prima di tutti me stesso non so se l'importazione e soprattutto c'era questo il rifiuto di un ruolo che l'artista sembrava avere nella società precedente o perlomeno nella società in cui vivevamo e anche in quella di oggi cioè un po' questo ruolo di giullare di una certa borghesia tranquilla in la quale si sollazza guardando un quadro sentendo una poesia ascoltando una musica al posto di questa funzione di giullari divertenti e piacevoli avevamo messo invece quella della funzione di provocatori di problemi e di discorsi più concreti ecco ti sembra che oggi ci siano artisti che hanno questa capacità di provocazione nei confronti di un sistema che ormai si è dialetticamente assestato si è arricchito anche purtroppo di queste componenti dialettiche che gli artisti fino ad oggi fino a ieri hanno fornito li ha fatti i propri tanto per intenderci Marcuse insomma che dice che il sistema si razionalizza proprio quando ai suoi estremi nelle sue frange intervengono elementi di contraddizione servono a razionalizzarlo e a renderlo molto più dialettico molto più disponibile più elastico e meno attaccabile diciamo ecco pensi che oggi si possa ancora ritenere che a fronte soprattutto della realtà diciamo delle cose che avvengono in maniera molto più imprevedibile della fantasia a volte a fronte di tutto questo esistano artisti che hanno questa capacità ancora di turbare il borghese di dargli come si dice i calci nei denti e ho paura che il discorso è un pochettino difficile però alla base c'è questa sconfitta grossa di tutto questo modo di impostare un discorso sull'arte e sulla cultura e la sconfitta è questa che non so se i mercanti d'arte o chi detiene il potere insomma in qualche modo cioè la società dei consumi in definitiva è riuscita a far accettare qualunque linguaggio però a farlo accettare non da un punto di vista proprio di linguaggio che serve per comunicare qualcosa ma semplicemente da un punto di vista formale cioè oggi si accetta qualunque linguaggio però sotto l'aspetto puramente formale sicché succede che se anche tu scrivi una parolaccia sul quadro viene accettata perché quella parolaccia è scritta in verde o su un fondo rosso e diventa bella poi diventa bello anche dire la parolaccia diventa bello fare rivoluzionario diventa bello dire che tutto è uno schifo diventa bello tutto insomma a questo punto a me è successo cioè io quando è che ho smesso di scrivere queste cose sui quadri quando qualcuno è venuto nel mio studio quale collezionista a dirmi ma non hai i quadri con le parolacce dopo di che ho capito che la parolaccia non serviva via niente va bene questo argomento che ci introduce nelle pantole di oggi lo riprendiamo dopo uno stacco musicale